bello a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video subito salutiamo Grifoldo venuto da August Arsizio come al solito io sono Gavi io Birillo oggi andremo a farvi vedere il nostro nuovo liquido vai Birillo esponicelo un liquido tutto italiano al 100% della Tornado Juice lo fanno a Palma a Nocetoli precisamente ora uscirà la linea completa non so se qualche negozio va già a disposizione però al più presto lo troverete da Svapo Caffè ricordiamolo bene ragazzi di Svapo Caffè Marina di Carrara, Moliciara e La Spezia un bellissimo negozio se volete andare a vedere ci sono un botto di liquidi buoni allora andiamo a fare la prova di questo liquido si chiama Emilia dovrebbe sapere un pochino di cioccolato e vaniglia cremoso è tutto VG ha la massima potenza 50 ml 50 ml con la sua basetta diventa 60 ml 0 nicotina 0 nicotina perché a noi ci piace 0 nicotina ora vai, drippa Gabri e facciamo qualche conclusione su questo liquido lo sapete che fra un po' uscirà la tassa c'è qualche negozio che ancora nel magazzino la roba ordinata precettivamente quindi magari la pagate un po' di meno però fra un po' verrà fuori la roba con la tassa guardiamo come va a finire questa storia noi fumiamo come va a finire la tassa noi fumiamo lo stesso, sglappiamo e quindi la pagheremo un po' di più questi liquidi però fa un botto di fuori sapore, io voglio sentire il sapore, com'è? cioccolato e vaniglia buonissimo miscelato bene in quantità uguale o per il male cioccolato io sento un po' più il cioccolato miscelato bene sì all'inizio ti senti cacao, 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 poi dopo piano piano tipo vanigliato, vaniglioso, vaniglioso, vaniglioso buono l'oday l'oday lo smaga perché non è troppo cioè magari qualcuno lo sente troppo fuori per me l'oday abituato magari a fumare dei liquidi molto, a me mi piacciono tutti forti che si sente, che mi spiegava, e me lo fumo tutto bene perché mi piace, che mi ha scelto, che siamo buoni figli che voto gli dai questo lì? uno le fa una borgondrata come se piovesse come se piovesse come se piovesse un prossimo video se il video vi è piaciuto lasciate il like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su facebook, ricordiamo la taverna dello slapo e su instagram se volete vedere qualche foto che mettiamo ogni tanto da appazzare dal video e robe strane allora vi aspettiamo qui, mi raccomando iscrivetevi al nostro piano piano stiamo crescendo noi speriamo che vi piacciono i nostri video di presentazione dei prodotti che proviamo noi grazie da la taverna dello slapo e tutto un bacio ciao